Allora, torniamo al di fuori della parrocchia di Ogni Santi, dove con Caterina Dall'Oleo c'è un ospite d'eccezione. A te Caterina. È proprio così, è qui con noi Don Flavio Peloso, che è il superiore generale della comunità degli Orionini, che oltretutto abbiamo appena scoperto che lui a quella messa con Paolo VI c'era. Non alla messa di Paolo VI, in un altro angolo dell'Italia, nel Veneto, era un ragazzo di 13 anni, Chierichetto, che in quel giorno, a 13 anni, ha vissuto questo cambio con una particolare emozione, con tante prove. Ricordo che guidavo dall'Ambone la preghiera dei fedeli, quindi questo dialogo con i fedeli, che era del tutto nuovo, e in qualche modo mi sentivo protagonista di quella messa. Il protagonismo del Popolo di Dio e dei diversi ministeri era stata proprio una delle ragioni della riforma liturgica, la attiva partecipazione. Ecco, da ragazzo di 13 anni ho sperimentato anch'io l'attiva partecipazione. Ecco, Don Flavio, una cosa che a me incuriosisce moltissimo, ma perché Paolo VI scelse la parrocchia di Ogni Santi? Perché venne qua? La riforma liturgica era un passo con cui la Chiesa si avvicinava al popolo di Dio, e scelse innanzitutto di celebrare la prima messa della riforma vicino alla gente, non in un ambiente solenne come poteva essere la Basilica di San Pietro, un'altra grande basilica, ma in una parrocchia. Credo che innanzitutto scelse una parrocchia. Poi, senz'altro, c'è un'altra ragione, ed esplicitamente poi lo disse, proprio in concomitanza con quel 7 marzo, la nostra congregazione celebrava il venticinquesimo della morte di Don Orione, Don Orione che Paolo VI conosceva bene per avere collaborato con lui.